eccoci eccoci in diretta questa volta in italiano per poesia e di giorni e non solo questa volta non parliamo di poesia abbiamo con noi ceppo pandora ovviamente lui ha anche un nome reale ovviamente alessandro alessandro scarioni andiamo qui con noi sui altri social media lui è ormai diventato una star di tiktok e l'ho beccato lì mentre io sono veramente scrausissima in quella in quel social media e l'ho trovato veramente molto gradevole perché fa nelle minette molto molto intanto mi stai muovendo con la calma sì sì ok perfetto intanto e ricordiamo che questo è un uno spazio questa volta in italiano noi un valiente in questo orario facciamo poi nel mondo ma io e mariposa ci sono una vacanza e quindi giusto la palla al mazzo per ritornare in orari differenti alle alle mie nombriche alle mie nombriche in italiano e come non avere un autore di libri in italiano con me quindi abbiamo ci occupando alla con il tuo libro che si intitola c'è un po pandora appunto i giorni del dolore lo faccio vedere ok è fantastica la prima cosa che vi ho detto è proprio bella la tovertina che non vende tantissimo devo dire la ventana dall'immagine da qui non vende tantissimo però bello allora poi io volevo ricordare che potete fare tutte le domande più bastarde possibili non c'è problema che lui risponderà assolutamente non c'è problema potete farlo anche dopo quando il video passerà su una pagina facebook agnese monaco official e passerà anche ovviamente sul canale youtube ogni agnese poi ci sarà 60 secondi di questa intervista saranno passati su instagram monaco agnese e su tiktok agnese monaco uno scritto un numero perché questo posso fare tranquilla va bene non sono una famosa di che cosa parla questo libro fondamentalmente agnese innanzitutto grazie per l'invito dell'intervista prezzo ringrazio veramente per l'occasione il mio libro è un horror avventura romanzo avventura è fondamentalmente molto particolare perché troverete tre storie diverse nello stesso racconto nel senso parla di un'infezione un'epidemia l'ho scritto sei anni fa di questo ceppo pandora che devasta il pianeta e questo virus trasforma sia le persone che gli animali che infetta in bestie feroci in effetti richiamo effetti nel libro che attaccano le persone normali e gli animali normali oltretutto devastante che l'ambiente inquina l'acqua l'aria insomma fa veramente delle cose terribili il primo libro perché è una saga questo qui il primo libro cosa si vede sto cercando di farlo vedere bene questo qui alla dei primi dieci giorni dell'epidemia quando proprio lo scoppio l'inizio e praticamente sono tre storie di un infermiera corso cane è ambientato in america costa est un infermiera corso cane un ragazzo della difesa civile americana e la femma e un poliziotto ognuno dei tre personaggi alla sua storia parte non conosce gli altri due personaggi come trono di spade se qualcuno degli ascoltatori o dei lettori sicuramente letto visto la serie tv ognuno dei tre vi darà la sua visione di una pandemia in corso cioè voi avrete tre diversi aspetti visuali chiamiamoli così di questo di queste apocalisse attraverso gli occhi di un poliziotto un'infermiera e un ragazzo della difesa civile quindi tre diversi modi di vederla e ho scritto un libro in modo che si di viverla perché ognuno dei tre è diverso cioè come età sesso stile di vita esperienza lavoro la roba bella che molti miei lettori mi hanno detto che sembra di leggendolo che è quello che volevo fare di vedere un film perché sono stato molto attento maniacale se vogliamo nella descrizione senza però farlo pesante attenzione è molto fluido come libro questo è il primo è già fuori lo trovate su amazon sia in ebook che cartaceo e il secondo esce quest'anno perché una saga e sto scrivendo il terzo fondamentalmente è molto bello prende molto bene e soprattutto lo consiglio anche chi non è fan del genere perché la maggior parte dei miei lettori non sono fan horror né fan horror né di avventura vi invito ad andare a dargli uno sguardo o a visionarlo su amazon leggere magari la trama meglio con più descrizione e e sono orgoglioso di annunciare che ho mai raggiunto le 200 copie in meno di un anno quindi un bel risultato contanto che sto promuovendo tutto da solo in italia solo in italia solo in italia devo ancora fare la versione inglese devo devo farlo tradurre per adesso mi sto limitando al mercato italiano ovviamente ovviamente essendo su amazon uno può acquistare come vuole anche da altre parti del si è già arrivato in giappone in india in america cioè ha viaggiato già per tutto il mondo comunque e alla mia epoca c'era la carta c'era la carta no ma anche in carta anche anche in carta che andava l'editore proprio non ha ma sono andato hai ragione hai ragione una volta era così e posso dire che nel mio libro non troverete i soliti cliché per gli amanti del genere intendo horror così che trovate nella maggior parte dei racconti nel senso che non troverete la classica storia dove scoppia l'epidemia devono trovare la cura ma è più una cronaca cioè voi vivete intensamente le vite di questi tre personaggi che dovranno fondamentalmente combattere per ogni respiro che fanno perché veramente si ritornano catapultati in un inferno è tutto un tratto scoppia la cosa e è molto bello perché si creano anche le preferenze cioè ognuno personaggio preferito ok però cerchiamo di specificare questa roba perché ne abbiamo parlato poi in privato noi si vuole molto prima che avvenisse la pandemia quindi non si fa assolutamente la pandemia e non c'entra niente questo c'è specificiamo perché pensano che l'ho preso per la pandemia che avevo visto sinceramente grazie a dio non c'entra niente è totalmente diverso l'ho scritto sei anni fa molto prima del covid e appunto parla di questo virus che fondamentalmente trasforma proprio le sue vittime le fa trasformare in berserker in creature impazzite che attaccano gli altri diffondendo anche l'epidemia tra virgolette un po la della stofas resident evil world war z per chi conosce i generi ovviamente bene allora per chi invece non conosce il genere ci sta una c'è una parte nel libro in cui si parla di indolenza psicologica assolutamente si molto molto questo il libro c'è un argomento una parte dei liberi magari legge c'era in modo tale io non sono molto bravo a fare il lettore a voce però 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 posso però posso dirvi questo ve lo posso dire allora il libro ricopre completamente l'esperienza come dicevi tu agnese in maniera totale di una pandemia di questo tipo cioè voi vivrete dei personaggi tutti gli aspetti di una simile tragedia psicologici di sociali e fondamentalmente la civiltà va in pezzi cioè non c'è solo il pericolo della pandemia perché anche le persone vanno fuori di testa voi avete visto appunto col covid che è una roba molto meno grave grazie a dio la mia del mio virus che ho inventato e casini che sono successi cioè la gente va fuori di testa non c'è più l'ordine sociale molti impazziscono gli ospedali vanno al collasso insomma la società come la conosciamo sparisce voi vivrete praticamente tramite questi tre personaggi tutti gli aspetti di come se vi trovasse voi in questa pandemia cioè veramente vengono a mancare le cose elementari non solo la sicurezza fisica l'acqua al mangiare il la sicurezza personale psicologica il wifi telefono tutto parisce tutto praticamente perché non c'è un trafiletto se volete ve lo leggo allora c'è un non c'è un trafiletto veloce che posso leggerli senza spoilerare agnese perché potevo scegliere uno che non spoilerò ma io sono messo tutti i posti che è facile allora questo dovrebbe andare di più piano per ascoltare a giusto giusto allora premetto questa cosa il libro è scritto in maniera particolare i tre personaggi si alternano in un ciclo di tre i capitoli che leggerete avranno all'inizio una leggenda che spiegheranno di che personaggio si sta parlando in quel capitolo il tempo la data l'orario e il luogo dove si sta avvolgendo per dare far capire al lettore di che cosa si sta parlando se no verrebbe fuori un pasticcio il ciclo è prima il ragazzo della difesa civile poi il poliziotto e poi l'infermiera e si va a ripetere intanto il tempo passa di questi dieci giorni ora vi leggo un capitolo a caso dell'infermiera ok vi farò vedere le con due tre pagine allora inizia così cortri robinson 11 agosto 2015 1 e 13 pm stati uniti costa est dove stato del new espi 100 km da boston questa è l'introduzione per farvi capire dove siamo liberate il corridoio largo largo il gruppo di medici ed infermieri sfresciò lungo la corsia di emergenza facendosi largo tra la barella tra il caos e il generale che regnava nel corridoio cortri cortri era sudata dalla testa ai piedi indossava un camice ormai completamente coperto di sangue esporcizia ed era completamente usata mentre la barella procedeva a zizzag per evitare le decine di feriti che affollavano l'ospedale la giovane infermiera faceva adesso meglio per tenere premuto con forza un tampone sanguinato sul collo di un poliziotto dal colore cereo la gola dell'uomo sprizzava sangue rossastro da un profondo squarcio che sembrava essere stato inferto da una bestia la barella che trasportava l'uomo era mai inzuppata di sangue e nel percorso lasciò lungo il corridoio dell'ospedale una lunga scia rossastro a terra andando ad arricchire la varietà di macchie di diversi tipi e colori che ricopriva le piastrelle verdi smerato dell'ospedale a cortri era già capitato in passato di affrontare giornate molto dure al lavoro all'ospedale come quando si verificava un enorme incidente automobilistico in zona e il numero di feriti da cudire era smisurato in quei casi l'ospedale era preso d'assalto e diventava peggio di un vespaio la giovane donna però nonostante si considerasse una veterana non aveva mai visto niente di nemmeno paragonabile a quello che stava affrontando in quel momento l'ospedale era già al completo da un pezzo ormai i feriti venivano ammucchiati nei corridoi sopra le barelle e sulle sedie a rotelle il personale aveva cominciato ad ammassarli nella sala mensa e persino negli spogliatoi dell'ospedale con l'aumentare dei feriti in arrivo i medici avevano cominciato a farli scaricare direttamente nel parcheggio dell'ospedale sul torsore coccente dove restavano in spasmodica attesa nella speranza di ricevere le cure prima di morire da quando la ragazza aveva iniziato il turno di quel mattino presto si erano passati a velocità terrificante dalle cure standard al triage più estremo schiere di dottori esausti decidevano in base ai vari fattori chi doveva essere curato e chi no i giovani bambini avevano la precedenza sugli anziani e nei corridoi dell'ospedale si assisteva a scene strazianti di dolori e disperazione con la gente che moriva letteralmente abbandonata sulle barelle tra urla e cupi colgo gli spinali mentre le clip di medici portava la barella verso una delle poche sale emergenza ancora libere Cortio si ritrovò per l'ennesima volta da quella mattina a domandarsi con angoscia che cavolo stesse succedendo la fuori non poteva credere a ciò che aveva visto da quando è arrivata in fretta e furia all'ospedale va bene? allora ricordiamo che il NIM lo è ambientato in America in America costa est si una cosa e la seconda cosa poi ovviamente che ogni cosa che viene scritta l'anno autori l'anno autore e mi escoci ma 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 mi escoci e mi escoci ok detto questo io volevo un chito io come sai scrivo poesia sì il mio nuovo libro si chiama la sintesi di me stesso di me stesso l'ho visto il post sì sì e anche le presentazioni se ci ho fatto caso speriamo sì 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 e infatti i problemi nella vendita del libro saranno destinati alla smile out con nazione che si occupa di malformazioni adulto e in adulti e in bambini e in bambini operandogli e danno un nuovo sorriso manuale le malformazioni adulto sono di diverse forme molti bambini nascono in paesi molto poveri dove non hanno neanche nascono contagi ma il formazione non poter neanche mangiare le cure basi sì 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 quindi i paesi molto poveri tendono anche alla morte perché non hanno le cure non hanno niente ovvio non hanno sicuramente niente e le cure che ci sono costano poi tantissimo in altri paesi quindi io lo voglio con il foglio con la sua e la mia gioia con degli anni è veramente acceso in terra nel suo punto ho deciso di utilizzare un prezzo popolare accessibile e provibile a tutte le tasche perché specialmente in un in un periodo non come questo come questo noi stiamo tutti con l'acqua alla cola aumentare il prezzo di un libro assolutamente no quindi il prezzo 10 euro e detto questo io volevo leggere io parlo sia del bullismo della violenza psicologica sia sui uomini e sulle donne perché la violenza psicologica non ha un genere assolutamente no vanno nell'abbandono dall'età infantile a quella pulverale a quella semile quindi c'è proprio un percorso anche nelle poesie con un enocchio nesfilato e fruibile a tutti sia ai bambini sia agli annunci tanto che alla presentazione che ho fatto prima prima a tele se termine con incendi beneverso c'erano quanti bambini che mi hanno ringraziato che bella cosa bella cosa più che accordare la consapevolezza di che cosa sia il bullismo questi temi questi temi e anche rendere almeno provare rendere la consapevolezza la vittima di violenza psicologica che la stanno subendo perché molto spesso si raccoglie molto tardi troppo tardi troppo tardi troppo tardi e si potrebbe fare molto di più e lo voglio quindi allora visto che tu hai parlato mi hai messo in difficoltà perché adesso mi faccio il cuoco poi ovviamente vabbè ci stanno anche nei bugianti patologici ok allora visto che mi hai lasciato senza fiato ti rendo senza fiato grazie non ho male senza fiato vacilla l'anima chissà quale pezzo del cuore hai custodito in te respirando l'abbraccio in una fotografia di infinito che macchini caffè questo domani gugie come schiave di lanterne troppo fiocche aspettando il vero adolescente le emozioni dicevo del futuro che sprechi in emozioni nuove dito dimorami nel freddo in inverni gracili trascinandomi senza andare via pensando all'odio che logora abbandonandoci all'oblio di sogni serili vivremo in un lungo secco questa era un po' lunga che parla di minuti e foto l'adolescenza e le emozioni dell'adolescenza stessa o se il fatto di non voler crescere no? mi è piaciuta la parafosi delle lanterne bella 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 particolarmente quella particolarmente quella anche l'inverno bella sì 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 non doveva succedere me la prenderò a morte guarda ieri ieri ho fatto un'altra intervista proprio nel clou che stavo spiegando una cosa mi sono bloccato per 7 secondi quindi ero una radio non c'era neanche il tempo come adesso cioè continuavano a fare gli spezzoni giustamente dalle canzoni quindi lasciati immaginare la sto organizzando da quattro settimane però la vogliamo fare ottima la magia del wifi la magia del wifi sì esatto io lo fai nel wifi anche poi ecco bravo esatto 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 ormai molte cose che continuano a fare su internet anche questa internet tutto tutto diciamo di sì però anche qua abbiamo problemi no abbiamo problemi in lontananza non avremmo potuto fare oggi assolutamente 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 anche organizzarsi diventa non è che conoscersi non è che conoscersi zero quindi sì sì bene allora io volevo porti delle domande vai 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 spara allora in primis perché scegliere come location l'america un po' meglio sì 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 me l'hanno chiesto in tanti questa domanda l'ho scelta perché avevo bisogno di un terreno narrativo io lo chiamo così almeno molto molto ampio e soprattutto con infinite possibilità o quasi infinite di materia prima in termini di popolazione ehm territorio molto ampio e soprattutto anche come tipo di cultura mi serviva quella americana perché che fanno tutto no? cioè il fatto di avere tutto e quindi di perdere tutto e per quello per quello che è il mio racconto per quello che volevo raccontare mi serviva un concetto un contesto come quello americano anche e soprattutto per la grande potenza militare cioè per far capire che se la nazione più potente del mondo le sue forze armate vengono annientate in pochi giorni questo virus è proprio una cosa spenniamo che lo mettiamo mai perché c'è assolutamente però però converrai con me penso Agnese che se avessi l'avesse ambientato nel Burkina Fasa dove hanno quattro soldati che due schioppi non dava la stessa e anche territorialmente è molto più ristretto dell'America non dava la stessa la stessa impressione cioè la cosa che fa che stupisce quando un un nostro vicino o un altro una nostra nazione che molto bene conosciamo bene tutti si la vedi devastata a livelli così 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 totali si sai mi voglio un pochino inseparata in questo periodo in questo periodo in questo periodo in cui viviamo no cioè parlare di un libro del genere assolutamente si 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 ti tocca ti tocca moltissimo soprattutto tutti gli aspetti psicologici soprattutto soprattutto psicologici ti torna alla mente quello che abbiamo messo in tutto il mondo speri veramente nella pace che tutto si risolva per il meglio io se posso raccontarti un velocissimo aneddoto per molte scene del mio libro soprattutto all'inizio i primi capitoli quando fondamentalmente come col covid mi aggancio un secondo al discorso all'inizio nessuno dei protagonisti e tantomeno la gente che gli sta attorno capisce cosa sta succedendo come è stato un poco per il covid dall'oggi a domani ci siamo trovati chiusi in casa con le quarantene l'esercito per strada cioè non è che molta gente ci ha capito io ho un negozio di frutta e verdura lo sai sono frutti vendoli io mi ricordo che i primi giorni che non si poteva neanche uscire dal proprio paese c'erano i blocchi stradali dell'esercito una signora anziana che faceva la spesa da me tutta spaventata la conoscevo bene la mia cliente da tanti anni quando ha fatto la eravamo lì io e mia madre che servivamo la gente con le ambulanze che sprecciavano davanti e indietro fuori e tutta la gente con la mascherina terrorizzata questa signora me la ricorderò finché campo finita la spesa mi ha guardato in faccia tremante come una foglia e mi ha detto con la mascherina in indialetto milanese io ve lo dico in italiano per farvi capire ma bambino mio perché si usa così chiamarci anche se ho 37 anni bambino mio ma cosa che sta succedendo io l'ho guardata e mi ricordo che io ho risposto signora non lo so vada a casa si chiude in casa e cerchi di evitare l'unica cosa che si sapevano era quella che non dovevi stare troppo vicino alla gente non so se ti ricordi dovevi copirti vada in casa e aspetti perché non le so dire niente io nella protezione civile uno dei tre personaggi è basato su di me questo non l'ho detto il ragazzo della FEMA perché ho fatto nove anni di protezione civile italiana quindi ho usato quell'esperienza anche per descrivere il personaggio gli altri due l'infermiere e il poliziotto sono basati su fisicamente e caratterialmente su due miei amici uno fa il poliziotto l'altro fa l'infermiera è un cane mi salutiamo sì sì salutiamo se mi stanno guardando mi saluto quindi per dire che sei bloccata? sei? ciao sì ok infatti per un'altra mia sensazione sono molto felice a posto ci ho lavorato per tanti anni con la protezione civile viva la polizia per l'amor del cielo fermiere, polizia fanno tutti i giorni un lavoro stupendo per l'amor del cielo polizia, carambinieri tutto 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 pompieri astronautica che ce n'è che ce n'è una gran quantità nel mio libro tra l'altro c'è una gran quantità c'è una gran quantità e sono i primi infatti anche nel mio libro che esalto giustamente come sacrificio perché mentre gli altri scappano loro devono andare invece dove c'è il pericolo cioè il bello del mio libro è proprio questo in un capitolo voi sarete un'infermiera come ve l'ho letto prima che deve scappare da un uomo rianimato con ancora il tubo respiratorio ficato in gola che ormai è morto che gli corre dietro per mangiarla mentre in un altro capitolo sarete un poliziotto che insieme ad altri 30 colleghi si stringe dietro un muro di scudi antisommostri insanguinati per affrontare la carica di 80 pazzi sanguinari che gli vogliono strappare la testa cioè è molto diversa la cosa c'è il passaggio in uno scappi nell'altro combatti cioè in base al personaggio che sarete vedrete la cosa da quello che intendevo con una visuale diversa perché ed è anche molto difficile è stato molto difficile perché attenzione vi ricordo che quando finisce il capitolo di uno io mi sono dovuto ogni volta agganciare come orario e come avvenimenti con l'altro tipo uno finiva alla una di notte alla una e cinque iniziava quello dell'altro da un'altra parte da un'altra parte in un altro stato di america che comunque è ambientato tutto sulla costa est questo non l'ho detto americana però in modo che il lettore abbia una cosa fluida completamente non che non capisco vada in confusione se era una scrivere una storia è facile cioè più facile per uno scrittore scriverne tre ognuna delle tre con personaggi secondari personaggi terziari incroci con gli altri due non è semplice però il bello anche quello alla trono di spalla però volevo intanto avere qualcosa ne pensate su di questa cosa io purtroppo ho ricevuto la restituzione per ciò più attività oh che brutta cosa e devo dire che mi ha sconvolto perché l'unica animeria su questo territorio quando mi faccio mi ha fatto veramente male non i penini in miei per la perdita ho capito ma la perna proprio di di cultura di affetto che il territorio fin di là e la pubblica ce n'è veramente tante che stanno chiudendo anche qua esatto anche qui in zona fuori Milani pieno quindi quindi bisogna anche tu come ovviamente che tu spingi in qualche maniera avere fa sì che queste realtà restino aperte restino aperte assolutamente io la maggior parte dei miei libri sono qui in zona eh tutte le librerie della zona le sto distribuendo il mio libro è uno due glielo do anche quasi sì questa libreria è un paesino di Roma quindi però è un peccato lo stesso è un peccato lo stesso è comunque un punto di cultura che chiude in realtà è un peccato maggiore perché mentre magari nelle grandi città è vero è vero è vero lì ce ne sono di meno hai ragione certo hai ragione la zona non era solo libreria era anche il cazzo libreria quindi cioè per andare avanti quindi fa ancora più male eh sì hanno tentato di resistere è un pezzo di paese che se ne va è un pezzo di paese che se ne va in pratica purtroppo sì quindi speriamo che possano riaprire il più possibile guarda io glielo auguro con tutto il cuore guarda glielo auguro veramente veramente un'altra domanda che è dopo che l'hai vissuta veramente una pandemia scrivereste la sua cittura realmente sono sincero no non lo scriverei ma per il semplice motivo che per quanto siano terrificanti e molto a volte anche lo dico chiaramente eh disturbanti le storie che scrivo perché comunque sono molto crude eh ma proprio perché volevo fare una cosa reale quindi cioè la lettura no beh allora dai diciassette in su va bene me l'ha classificato così almeno il sistema nazionale quindi ok non c'è niente di pornografico o altre cose quello cioè scene di quel tipo lo voglio essendo un libro horror ci sono scene forti ovviamente ovviamente però dai diciassette anni in su vabbè vedono molto di peggio in televisione detto proprio ma anche online ma anche fuori dai denti vedono almeno il mio contesto tra virgolette controllato sono stato attento come lo scrivevo però è forte comunque per rispondere la tua domanda eh no ma perché appunto innanzitutto è una cosa che hanno vissuto tutti non ho bisogno di raccontarla perché tutti chi più chi meno l'hanno vissuto l'hanno vissuta sulla sua pelle io stesso ho perso il mio suocero nella prima ondata di covid quindi io il mio patrigno quindi come dicevo ognuno ha ferite più o meno aperte che sia sì eh e non sarebbe neanche una storia vera da raccontare perché è la stessa cosa che abbiamo vissuto tutti grazie a dio invece quella che ho scritto io è una storia di pura fantasia quindi non vivremo mai quindi no si spera di no si spera di no si spera di no incrociamo le dita non se lo merita nessuno assolutamente no assolutamente no ehm io sinceramente sono ero molto fatica legnosa ora non ha vissuto quello che abbiamo vissuto non riesco più a vederti e sono tutta legna le onde perché non ce la faccio più e io gli ho detto no no è stata una bella un bertrauma un bertrauma che mi sono vista come tutti no cioè cadere tutto davanti alla io tutto 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 con tanti punti interrogativi non so per me se staresti andando avanti come staresti andando avanti io sono stato io sono stato molto fortunato perché essendo alimentare fin da subito mi hanno fatto stare aperto non sono mai stato chiuso però mi sentivo un po' come non so se è presente il film io sono leggenda quello di Will Smith col cane che è in giro da su uguale io i primi tempi la mattina ero in giro solo io i sanitari i pochi negozianti che vendevano alimentari le strade erano deserto da film da film quindi mi sentivo un po' come io sono leggenda perché c'ero in giro solo io in macchina per carità trovavi subito parcheggio però per il resto non era che non era diciamo che è meglio trovare il parcheggio a vivere mettiamola così comunque no guarda ti aspetto ti aspetto a Roma per una presentazione congiunta guarda volentieri organizzeremo più avanti lo organizzeremo di sicuro Agnese mi piacerebbe molto guarda il wifi wifi ogni tanto fa tranquilla 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 no no hai i tuoi contatti mi raccomando in modo tale che le persone possano portare si mi trovate su allora su tiktok nome ceppo pandora più facile di così come il libro se mi volete contattare per scrivermi per domande o facebook alessandro scarioni mi trovate su facebook anche e sono i due principali o anche instagram ceppo trattino basso pandora sono questi tre i tre condatti che c'ho ma soprattutto su tiktok c'è po' pandora mi trovate subito c'è l'immagine in bianco e nero e niente se volete fare domande anche dopo sui canali di Agnese instagram facebook così quando metterai le storie quando metterai le storie io rispondo va bene? ovviamente ovviamente ve lo chiedo per favore perché c'è alcune volte lo devo sempre ripetere non fate domande amma se single amma che posso conoscerlo non le fate queste domande chiedete solamente cose se sapete succede? perdonami succede succede vabbè per togliere ogni ogni volta che intendo mi ha sempre qualcuno mi ha detto ah ma se si non è non è tolgo tolgo tutti i dubbi sposato con una bambina sono a posto e almeno sono felicemente sposato che fedele quindi mi raccomando non glienevi nella testa queste cose assolutamente nel libro e di dove poterlo acquistare e tutto quanto su amazon trovate tutto su amazon lo trovate sia in ebook che in cartace e a me domande si 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 troppo troppo nel tempo quello che è non possiamo stare troppo a parlare no anche per no anche perché te devi lavorare devi lavorare anche tu quindi è giusto ti lavora anche te in aria perché tu lo sai che domani se vanno c'è dal vino si lo so però so che sei anche incasinata Agnese so che c'è tante cose da fare quindi ti ringrazio anche per lo spazio che mai ti ho è nel mio DNA quindi io vado benissimo io sono milanese eh sono uguale anch'io bene allora una bella lotta una bella lotta una bella lotta va bene grazie veramente il cuore per essere stato con noi altrettanto ci mando tutto insomma tu mandami dove metti post sui canali e io per chi iscriverà io risponderò a tutte le domande promesso va bene grazie di cuore Agnese per l'opportunità dell'intervista del tuo tempo e un bacione a te e a tutti gli spettatori grazie a tutti ciao buon appetito ciao 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 ciao